Nome e cognome? Vida e mi piace Nome della tua gelateria? Nome certo Quindi, gelatiera è un mestiere o stile di vita? È uno stile di vita Qual è la tua filosofia? Non fermarsi mai e non dare niente per scontato Non fermarsi mai e non dare niente per scontato